Un mito per tanti ragazzi, una despota senza scrupoli per il biografo Lee Anderson. Chi era davvero Ernesto Che Guevara, braccio destro di Castro? Ce lo raccontano sua moglie e sua figlia Leida nell'intervista esclusiva di Roberto Olla. Ernesto Che Guevara, Che Guevara, un'icona del Novecento. La sua immagine è immediatamente riconoscibile in tutti i paesi del mondo. Il rivoluzionario per eccellenza. Areida Guevara è in Italia per presentare il libro Evocation, scritto da sua madre, sulla vita privata assieme alla CE. Quando è stata l'ultima volta che ha incontrato suo padre, in cui lei non l'ha potuto riconoscere? Perché? El venia del Congo. Cornava dal Congo. Si stava trasformando per poter poi entrare in Bolivia e quindi praticamente era irriconoscibile. Mio padre era calvo, vestito in modo diverso, aveva una dentiera finta. Era un'altra persona e me l'hanno presentato come un amico di papà. Quella sera fu bellissimo, ma alla fine io son caduta battendo forte la testa. E lui mi prese in braccio, mi ha fatto sentire una forma d'amore. Io mi sono confusa, non sapevo fosse mio padre. E ho detto alla mamma, mamma secondo me quest'uomo si è innamorato di me. Quanto ha contato nella costruzione dell'immagine del CE l'essere un uomo di grande fascino e di grande bellezza? Sicuramente era molto bello. Io penso che lo più importante è la sua obra. Quanto ha contato nella costruzione dell'immagine del CE l'essere un'immagine del CE l'essere un'immagine del CE l'essere un'immagine del CE l'essere un'immagine del CE.